Il comune di Castellabate aderisce al progetto Portami con te. L'iniziativa nasce dall'idea di un cittadino di Castellabate, Alessandro Maiuri, e consiste nella posa di dispensers mobili sulle spiagge Bandiere a Blu di Castellabate e precisamente Lago Tresino, Punta Inferno, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Baio Gliastro Marina. L'iniziativa ritenuta meritevole dall'ente rappresenta un notevole richiamo ambientale per il territorio in quanto il suo obiettivo è di sensibilizzare e informare sulla corretta raccolta differenziata e come tenere le spiagge pulite. Il comune di Castellabate già in passato ha aderito ad altre campagne ambientali di sensibilizzazione. Ricordiamo il protocollo di intesa siglato con l'associazione Plastic Free Onlus che opera sul territorio nazionale con una vasta rete di volontari sensibili ai temi ambientali. L'obiettivo comune è quello di informare e sensibilizzare sulla pericolosità della plastica, in particolare di quella monouso pericolosa per gli animali marini e altamente inquinante. Castellabate sempre di più intende lanciare esempi di comportamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente e della natura, invitando tutta la comunità ad una coscienza ecologica ambientale sempre più attenta e più efficace nelle azioni di tutela. Il protocollo faciliterà le varie attività previste dall'associazione, come ad esempio gli eventi di raccolta dei rifiuti nei siti maggiormente interessati dall'accumulo di plastiche e tante altre iniziative che verranno programmate in collaborazione con enti e cittadinanza attiva.